Amici di Unipet.it, ben ritrovati a questo appuntamento con i pronostici in attesa delle sfide. Napoli giocherà lunedì, quindi avete il tempo per pensarci. Un Napoli che però arriva da una piccola delusione, quella di non aver chiuso i giochi in Champions League. Una delusione anche di tipo di gioco, perché Napoli contro la Cenerentola del Girone, questa Dinamo Kiev che ha segnato soltanto due gol, ha fatto solo due punti, uno proprio con il Napoli, praticamente in questo momento non è riuscito a batterla. Un Napoli che non vive un momento felice, la vittoria di Udine era stata un piccolo toccasana per il morale, invece si ritorna purtroppo a Giungo con questo pareggio che serve a poco. Il San Paolo sarà pieno per fortuna per la gara con il Sassuolo, gara da non sottovalutare. I nero-verdi non sono in un momento fortunato, né in Coppa né in campionato, però bisogna stare molto attenti a questa squadra. Squadra da sempre interessante, ritornerà al San Paolo anche Paolo Cannavaro. Bisogna capire come Di Francesco vorrà affrontare il Napoli, se la giocherà oppure proverà a contenere un Napoli ancora spuntato, perché per ora in avanti lì i pochi gol che arrivano, arrivano sempre con i tre bassini, i tre nanerottoli ormai come sono stati chiamati qui al San Paolo e con Mare Kamsic, che è stato forse il più pericoloso proprio con la partita con la Dinamo. Cosa dire? Bisogna vincere, quindi 1-1 è over oppure gol-goal, perché insomma il Napoli purtroppo il gol lo sta subendo. È vero che è rientrato al B-all, quindi attenzione anche a questo, però un Napoli che per ora non mi sembra al top, è un Napoli che deve recuperare le forze, deve recuperare morale, deve recuperare vittorie e soprattutto punti, anche se in classifica non è messo male in campionato e come dicevamo anche in Champions. Unibet.it, io ve lo ricordo, puoi scommetterci, il verde di Unibet dietro di noi e soprattutto l'importante è giocare, giocare con noi.